Gestire un'attività può farti sentire in una giungla, travolgente e spaventoso. Ma tutto ciò di cui hai bisogno è lo strumento giusto. Odoo è il software migliore per gestire qualsiasi tipo di azienda in maniera efficace. In un mare di attività da portare a termine, scartoffie e fogli di calcolo infiniti. Non importa che tipo di attività tu gestisca, Odoo ti farà risparmiare tempo per concentrarti su ciò che ami fare. Provalo ora all'indirizzo odoo.com Grazie